Benvenuti a questo nuovo appuntamento di economia prima e dopo con Alberto Di Martino e Giuseppe Fischetti esperti di analisi e strategie aziendali. Affronteremo un nuovo argomento legato all'attuale sistema economico e alle strategie imprenditoriali da adottare. In questa puntata si parlerà del dirompente valore del capitale umano. Bene, buongiorno e ben ritrovati a questa puntata di economia prima e dopo. L'argomento di oggi è il dirompente valore del capitale umano. È un argomento a me molto caro. In questa puntata avremo sempre la compagnia di Alberto Di Martino che saluto. Ci sei Alberto, dimmi che ci sei. Buongiorno a te. Siamo anche in compagnia dei nostri due ospiti che vi andrò a presentare tra poco e che sono compagni di viaggio nel parlare di questo argomento. Argomento che vi dicevo a noi molto caro, molto caro perché si parla di valorizzazione del capitale umano. Contrariamente a quello che abbiamo fatto le volte in precedenza, vorrei parlarvi dell'argomento iniziando da una storia. Una storia che ha due protagonisti molto semplici. Il primo sono io e il secondo Alberto Di Martino. I nostri ospiti anche che sono protagonisti di questa cosa. Ma vado con ordine. Nel 2011-2012 sto portando avanti una serie di studi e la mia attenzione viene attratta da alcuni numeri devastanti per quel periodo ed erano relativi alla nascita e morte delle imprese. Sapete benissimo che statisticamente questo è un allenamento che si fa, ma in quel periodo la condizione era molto particolare. La mia attenzione viene attratta proprio da questi numeri, ripeto, molto particolari perché segnavano delle oscillazioni molto forti e decido di approfondire l'argomento. Nello studio emerge un dato un po' insolito, se vogliamo, e cioè che gran parte delle aziende morivano per, e quindi quando parliamo di morte economica parliamo ai metri fallimento, morivano sì per fattori di natura cosiddetta esogena, quindi che potevano venire al di fuori da quelle che erano le attività interne dell'azienda. Ma una grossa componente molto forte era data dai cosiddetti fattori endogeni, cioè che si sviluppavano all'interno dell'azienda e elemento molto importante aveva come protagonista quello della componente umana, un asset intangibile. La cosa comincia a diventare intrigante perché al di là di quello che si pensava solitamente che quindi c'era una forte predominanza di beni materiali in azienda e questi poi facevano la differenza, quindi un macchinario, una tecnologia più avanzata, viene fuori che invece il comportamento delle persone all'interno dell'azienda è determinante e addirittura se non ben gestito, se non c'è armonia si arriva alla condizione di fallimento. Inizio ad approfondire questo studio e cerco di comprenderne sempre di più le cause. Contemporaneamente ci sono una serie di elementi normativi che pian piano vengono posti in atto, ci sono una serie di leggi e all'interno del mondo economico si comincia a parlare anche di industria 4.0 dove si parla di economia della conoscenza e così comincia a dare un forte valore a quello che è il capitale umano all'interno dell'azienda. Bene, insomma, allora dico se c'è un capitale umano ci sono degli investimenti che vengono fatti, ma questi investimenti che spesso vanno in una direzione che è quella della formazione del capitale umano, le imprese non riescono a farlo emergere nel proprio bilancio perché il sistema contabile purtroppo è basato sulla valorizzazione di quelli che sono i beni materiali, ma un bene immateriale come quello del know-how dell'azienda, la conoscenza aziendale e quello del know-how delle persone purtroppo non è facilmente dimostrabile, non può essere capitalizzato dicendola in un termine tecnico. E qui coinvolgo il mio amico Alberto Di Martino, col quale cominciamo a dire scusate ma se questo è un patrimonio esistente perché non deve essere messo in bilancio. Continuiamo a confrontarci, nascono tutto una serie di riflessioni e di teoremi, schemi e roba varia e in parole povere riusciamo a rendere oggettivo questo numero e quindi riusciamo a dire e a sostenere ovviamente applicandolo che il capitale umano si può mettere nell'attivo del bilancio. E qui comincia anche a venire in aiuto il contributo dei nostri ospiti. Ospiti che sono rappresentati da Francesco Prudenzano che è segretario generale di Confintesa e che saluto, grazie per essere con noi e il senatore Giuliano Pazzellini che è membro della commissione bicamerale per la semplificazione al Parlamento. Buongiorno e grazie anche a lei per essere con noi. Perché sono speciali questi nostri ospiti? Perché quando noi abbiamo reso pubblico e abbiamo iniziato a sostenere che è possibile valorizzare il capitale umano, nel nostro cammino abbiamo iniziato un po' a coinvolgere tutti quanti e i nostri ospiti sono le persone che si sono dimostrate le più sensibili all'argomento e mettendo in pratica con gesti concreti questa iniziativa. E con il segretario generale di Confintesa Francesco Prudenzano, pensate nel 2017 abbiamo dato vita al primo convegno pubblico a Roma sull'argomento del capitale umano. E metto subito in gioco il segretario Prudenzano e dico segretario, lei che sostiene con la sua organizzazione di Confintesa di dare una grande importanza anche a quelle che potrebbero essere delle iniziative, delle battaglie minoritarie ma di alto valore. Che cosa significa la valorizzazione del capitale umano per Confintesa? Allora io ho sentito con molta attenzione la tua introduzione e francamente da sindacalista non posso far a meno di ricordare che questa nostra Italia ha un punto di caduta fin dal 1948, cioè una gran parte degli articoli della Costituzione che sono inapplicati. Questo lo dico come premessa perché per me dobbiamo partire da qui per riuscire ad arrivare a un ragionamento sul capitale umano. C'è una contesa ottocentesca che è la contrapposizione tra capitale e lavoro che è una contesa che dovrebbe essere già stata abbandonata da decenni ma che continua ancora a avere degli stracci. Qual è la valorizzazione del capitale umano? La valorizzazione del capitale umano è quella di poter fare in modo che le persone che vivono questa società all'interno della vita dell'azienda possano sentirsi protagonisti sia se fanno parte del capitale sia se fanno parte del lavoro. Nel loro intimo, nella loro parte particolarmente sviluppata all'interno dell'azienda che possa però dare un risultato di soddisfazione psicologica, morale e anche una partecipazione reale e non da macchine. Tutto questo purtroppo viene spesso offuscato da un cattivo sentore e da una cattiva percezione del valore del capitale, del valore del lavoro. Faccio un paragone molto banale, il capitale pensa di poter comprarsi il lavoro e il lavoro pensa di poter ricattare il capitale e da questa parte non ne usciamo più. Noi da quando siamo nati abbiamo le idee chiare da questo punto di vista, pensiamo che dobbiamo uscire da questo dualismo e dobbiamo trovare un modo, un modo che penso sia solo uno, di riuscire a valorizzare il lavoro e il capitale nella loro qualità etica oltre che nella loro qualità produttiva. Quindi più di tanto non mi rilungo su questo punto, ma fondamentalmente secondo me i padri costituenti avevano scritto qualche articolo ben azzeccato su questo punto, mi riferisco precisamente all'articolo 46, ma tutto quanto è rimasto in sospeso, è rimasto inapplicato per cattiva volontà delle parti e per ancora più cattiva volontà della politica. Io riprendo un po' l'accenno fatto da Giuseppe Fischetti perché il lavoro che noi abbiamo fatto è stato anche quello di andare a raccogliere le varie produzioni accademiche, soprattutto straniere, sull'argomento e parlando di sistemi di macroeconomia, cioè di quei modelli matematici che cercano di descrivere l'andamento e i fattori che sono alla base della curva di crescita o decrescita di un sistema paese, ci siamo accorti che fino agli anni Ottanta e inizio anni Novanta, come ha detto giustamente Fischetti, gli elementi considerati erano quelli tangibili, canonici e quindi le riserve naturali, le miniere, le energie fossili, la forza lavoro, ovviamente la disponibilità finanziaria. Solo a partire dall'88-90 si inizia a rendersi, i ricercatori internazionali si iniziano a rendere conto che c'era anche un fattore che non era ancora stato censito perché mai pensato potesse essere misurato e questo fattore era proprio quello della competenza, cioè della capacità di poter lavorare e di lavorare bene al di là della mera forza lavoro delle braccia, per intenderci. Il primo a parlare di questo fu un certo Solov che introdusse il cosiddetto residuo di Solov, cioè un fattore K tipico delle formule matematiche che andava a colmare questa lacuna, questo vulnus. E tra i vari ricercatori che si sono cimentati in questo cito uno in particolare che mi piace, secondo me forse anche attuale nonostante il lavoro sia dell'88, è un certo Jan Fagerberg, un economista norvegese che descrive da due concetti diversi di conoscenza all'interno dei modelli macroeconomici, e cioè il primo definisce la conoscenza come il livello totale delle competenze presenti in un paese, il secondo concetto invece è il livello totale delle competenze prodotte dal paese. Qual è la differenza fra le due? È chiaro che le competenze non prodotte dal paese sono quelle importate. Quelle importate significa assunzioni, significa reclutare fuori dai confini, significa mandare a studiare i ragazzi fuori, perché io sistema paese non sono in grado di trattenere, non sono in grado di farli crescere, non sono in grado di mantenere a livello adeguato queste competenze, e lo abbiamo visto banalmente con l'industria 4.0 e lo stiamo vedendo in questi giorni banalmente con l'utilizzo di piccole tecnologie. C'è un altro aspetto importante che differenzia questi due concetti, e cioè che la competenza importata è una competenza che io sfrutto oggi, ma che finisce domani, cioè una competenza esprimibile solo nel breve termine. Mentre quella che dovrebbe entrare realmente negli studi strategici, nei piani industriali, chiamiamoli così, di un paese, ma il discorso vale anche per un'azienda, è quella che io sviluppo in casa, perché la sviluppo, come dico io, la sviluppo soprattutto sui sistemi che utilizzo io, la sviluppo secondo, chiamiamole metriche, ma anche criteri etici, che sono quelli che riflettono il mio paese, la mia azienda, la mia cultura, il mio territorio. Quindi vengo al senatore Pazzaglini per aiutarci a capire meglio. Secondo lei, al di là dei vantaggi, come dire, abbastanza evidenti da parte del lavoratore, se viene accettato, compreso e valorizzato meglio da parte dell'imprenditore, e al di là dell'imprenditore, che dovrebbe essere in grado di capire e mettere a frutto meglio le competenze della persona, considerando non banale il fatto che la proposta di legge è a neutralità fiscale, finanziaria, quindi non incide in alcun modo sui conti dello Stato, secondo lei un sistema paese, quale quell'italiano e se vogliamo anche in questo periodo di emergenza, quale tipo di vantaggio potrebbe dare la possibilità alle aziende di ascrivere al proprio patrimonio un valore del genere? Gli vantaggi sono tanti in diverse fatti specie. Io inizierei da quella che potrebbe sembrare quasi una riflessione ideologica. Che cosa vogliamo essere noi nel futuro? Un paese di bassa manovalanza? Vogliamo far concorrenza a quelle produzioni a basso costo per cui puntiamo a diventare competitivi pensando di ridurre il prezzo della mano d'opera? Oppure vogliamo diventare un brand, un riferimento a livello mondiale, un riconoscimento implicito di valore, di qualità? Perché se come credo io siamo tutti d'accordo che la unica strada possibile sia questa seconda, è evidente che dobbiamo fare in modo che quello del personale non sia più solo un costo, ma diventi per l'azienda un investimento. Il modo migliore per far sì che questo presunto costo diventi un investimento è appunto consentire che quello che l'azienda investe nella formazione, nella preparazione e quindi nell'organizzazione della propria attività, gli venga riconosciuta come valore tangibile da iscrivere a bilancio. Questo è il motivo per cui io da subito sono stato convinto del grande valore di questa proposta di legge, perché nelle intenzioni l'intento è quello di andare a favorire sì l'azienda nelle modalità che ho appena indicato, ma anche il lavoratore stesso, perché è evidente che un lavoratore preparato, un lavoratore formato, un lavoratore specializzato è un valore, un valore che se possibile appunto iscrivere a bilancio fa sì che anche l'eventuale ricollocamento di questo lavoratore nell'eventualità di crisi aziendale, ma come purtroppo stiamo vivendo in questi giorni anche nell'eventualità che una crisi che non dipende dall'attività svolta, ma dipende da fattori esterni, possa comunque coinvolgere l'azienda, se questo lavoratore è considerato appunto un valore da poter iscrivere a bilancio evidentemente avrebbe maggiori possibilità di essere riallocato nel mondo del lavoro appunto nell'eventualità che questo lavoro venisse perso. Ecco perché per il sistema paese diventa importantissima questa ipotesi, perché consentirebbe innanzitutto di semplificare l'ingresso nel lavoro per una categoria di soggetti che per motivi anagrafici ora purtroppo nell'eventualità che perdano il lavoro diventano un problema sociale enorme perché per un ultra cinquantenne ritrovare un nuovo lavoro diventa complicatissimo, mentre invece un cinquantenne formato che potrebbe appunto essere iscritto al bilancio come motivo di valore aggiunto per l'azienda avrebbe molte più possibilità. Inoltre ci consentirebbe di essere competitivi non sul fattore prezzo dove inevitabilmente, ma io auspico che rimanga così, non potremmo mai essere competitivi, ma sul fattore valore, sul fattore che da sempre contraddistingue il made in Italy, quello vero, quello che noi abbiamo tentato di valorizzare in diversi ambiti e che vorremmo venisse riconosciuto appunto come marchio a livello internazionale. Ecco quindi che paradossalmente stiamo ragionando di un percorso che avrebbe solo vincitori perché per lo Stato, come giustamente avete evidenziato, non sarebbe un costo perché ha fiscalità neutra. Per il lavoratore sarebbe un vantaggio enorme perché appunto gli consentirebbe di avere più opportunità oltre che veder valorizzato maggiormente il proprio lavoro, la propria professionalità, le proprie capacità e per l'azienda diventerebbe un valore per tutta una serie di motivazioni, adesso non so se sto andando lungo quindi eventualmente mi riservo di indicare le altre dopo, però per l'azienda diventerebbe un valore appunto per tutta una serie di motivazioni compresa quella del capitale sociale da iscrivere appunto a bilancio. Quindi ritengo che questo percorso debba trovare conclusione anche in ragione dell'attuale crisi più rapidamente possibile perché a mio avviso quando si cominceranno a gettare i semi per la ripresa futura dopo il Covid-19 avere la possibilità di investire su quello che ci contraddistingue, cioè sulla nostra inventiva, sulle nostre capacità professionali, sulla nostra tradizione, sulle nostre abilità produttive potrebbe essere un'opportunità di ripartenza immediata, non dico unica ma evidentemente molto importante nel nostro sistema paese. Bene, bene, perfetto. Allora prendo spunto adesso dalla risposta precedente del Zor Prudenzano per fargliene un'altra. Proviamo ad andare avanti col discorso. Lei ha parlato di una sorta di superamento della contrapposizione tra lavoro e impresa, appunto, cioè ricorda le lotte di classe, il concetto di lavoro-merce, quindi lasciamolo perdere, e dobbiamo andare, se vogliamo, eghelianamente ad una sintesi che superi i concetti attuali. In questa sintesi, come è stato detto, è necessaria una sorta di co-progettualità e una sorta di co-responsabilità tra l'impresa e il lavoratore, perché non è che basti una legge e non è che basti l'imprenditore illuminato, insomma ci vogliono anche i lavoratori che vogliono imparare, vogliono mantenere le proprie competenze, vogliono impiegarsi e dedicarsi insomma al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi faccio una sottolineatura per introdurre la domanda. Attenzione che non è che dall'oggi al domani le imprese raddoppiano il proprio patrimonio perché possono scrivere il valore delle competenze. La stessa proposta di legge, come giusto che sia, prevede che all'interno dell'azienda vi siano dei requisiti strutturali necessari, perché altrimenti diventa un'operazione di weed on dressing che io faccio alla fine dell'anno per far abbellire il mio bilancio. Quindi valorizza qualcosa che esiste in azienda e nel quale teatro, chiamiamolo così, incidono sia l'azienda stessa, inteso di modelli organizzativi e procedurali, sia di impegno da parte dei lavoratori. Secondo lei, dottor Prudenzano, quali possono essere gli strumenti pratici se dovessimo dare una ricetta o una prima indicazione agli imprenditori e in seconda battuta anche ai lavoratori. No, ma è chiaro quello che dice lei, esattamente così, il problema è che non basta una legge, non basta avere lavoratori appassionati alla propria azienda e imprenditori illuminati. Però occorre pure chiarire una cosa, come ha detto lei, fare un calcolo così computeristico per quanto riguarda il valore della competenza e metterlo a bilancio, mi sembra un'operazione molto riduttiva rispetto a quello che potremmo in realtà fare contando molto sul concetto che abbiamo preso in considerazione. Perché esiste un problema di responsabilità. Cosa succede ora? Succede che le aziende vanno in crisi e interviene un terzo, che si chiama Stato, che interviene con la cassa integrazione o con altri tipi di sostegno a reddito. Di fatto quello sappiamo tutti che è un fallimento, però è un fallimento che nessuno delle due parti cerca in tutti i modi di evitare. Nel senso che ognuno fa la sua parte separata, si mette in una contrapposizione, non risolve il problema, magari non vuole risolvere il problema, perché c'è un terzo che va a finire che paga. Il sistema che io penso è un sistema di corresponsabilità, oltre che copartecipazione. Nel senso che se le cose vanno bene, vanno bene per tutti, vanno male, vanno male per tutti. Il terzo che paga è una specie di azzardo morale, un concetto molto diffuso in economia, che dovremmo cominciare ad abbandonare, perché se no è molto semplice arrivare a una conclusione di fallimento di un'azienda, spesso, lo dico, anche provocata e voluta dalle stesse organizzazioni sindacali, perché tanto esiste un intervento pubblico. Ecco, questa cosa dovremmo vederla solo come veramente estrema razio. Invece purtroppo ve la vediamo in maniera sistematica, molto regolamentale. Questo perché manca una partecipazione responsabile e una presa di coscienza responsabile di tutte e due le parti. Cioè, se io perdo 100 euro, perdiamo tutti e due 100 euro. Se guadagniamo 1000 euro, guadagniamo tutti quanti 1000 euro. E cosa comporta tutto questo? Una partecipazione alla vita aziendale, ognuno per i suoi ruoli, e quindi la capacità di riuscire a co-decidere le vie dell'azienda, perché poi tutte le scelte sbagliate ricascano su tutte e due le parti. E non c'è così facilmente un terzo che interviene. Quindi io vorrei puntare molto sull'idea, l'ho detto già nel primo intervento, sull'idea e sul concetto di introdurre un sistema di partecipazione e di responsabilità che abbia anche una parte etica e non soltanto un'iscrizione a bilancio di questi valori. Perché se superiamo questo, e con il tempo che ci vuole, perché se ne vuole molto, riusciamo a superare anche quell'azzardo morale di cui parlavo prima e riusciamo a superare anche quella irresponsabilità circolare, per cui ognuno pensa che è l'altro che ha la colpa e tanto nessuno sta pagando in maniera diretta, ma poi alla fine paghiamo comunque, perché alla fine paga il paese e quindi paghiamo tutto. Allora, riportare al centro la responsabilità dei ruoli significa riuscire a prenderli efficaci ed efficienti, tra le altre cose. Quindi questo cosa vuol dire? Beh, gli strumenti pratici sono da scrivere, sono da pensare, ma in realtà il concetto generale è questo, ogni cosa che serve per fare in modo che le due parti si leghino e che non scarichino le responsabilità di una sull'altro, ma siano assolutamente convinte che ogni fesserio che fa uno ricade su tutti quanti e non ci sia possibilità di fuggire dai propri errori in maniera così semplice, specialmente se sono errori provocati. È evidente che faccio discorsi generali, ma penso che chi conosce un po' l'impresa e anche le aziende sa esattamente a cosa sto alludendo. E tutto questo può essere fatto anche partendo da una legge, anche partendo da un'organizzazione diversa, ma poi chiaramente con un'educazione al lavoro, con un'educazione al capitale, che sicuramente non è quella che l'Italia ha avuto e ha ancora negli ultimi 70 anni. Riprendo, rifacendomi a quella che è l'affermazione iniziale che ho fatto, i nostri ospiti sono speciali, speciali perché come dicevo prima hanno tradotto in termini pratici questo argomento, perché si sono sentiti, tra virgolette, coinvolti e hanno cercato di dare da subito un contributo. Mi riferisco in questo caso al senatore Pazzaglini perché in data 19 gennaio il senatore Pazzaglini ha fatto una proposta di legge dove l'elemento capitale umano possa essere considerato e quindi possa essere avviato un iter affinché quello di cui noi oggi parliamo possa diventare legge. Tengo però a precisare una cosa che è molto importante e che ho detto all'inizio, oggi seppur in maniera faraginosa e nel pieno rispetto etico di una valutazione di capitale umano è possibile farlo all'interno del bilancio. Che cosa stiamo cercando e qual è l'aiuto che, tra virgolette, speriamo di ottenere e l'iter che ha avviato il senatore Pazzaglini va in quella direzione? Ecco, per darvi l'idea immaginate un po' quando c'erano i primi computer, dove il computer era sempre rappresentato da un monitor, ma per tutta l'elaborazione dei dati, la memoria e tutto il resto ci volevano gli stanzoni che dovevano ospitare le parti del computer. Oggi tutto si riduce su un hard disk che è in grado di contenere migliaia di dati e quindi è portabile e più semplice la cosa. Ecco, a noi quello che stiamo cercando è di fare in modo che questa valorizzazione del capitale umano, che ripeto è possibile fare, è molto articolata, abbastanza complessa e quindi per noi rappresenta un po' quello stanzone che c'era prima, possa diventare quell'hard disk che dicevo dopo. Quindi semplificando i passaggi e questo porterebbe tutte le aziende perché l'obiettivo è che la legge sia di facile applicazione per tutti e che ogni impresa possa valorizzare al massimo la sua risorsa e quindi il suo investimento che fa in termini di formazione, in termini di profonda conoscenza aziendale, in termini di continuità, che sono le caratteristiche che oggi il mondo della borsa vuole conoscere per fare degli investimenti e fanno in modo che l'azienda abbia maggiore credibilità verso i suoi sostenitori, in questo caso gli azionisti, perché è in grado di garantire quella continuità sul mercato. Ora, volendo un po' rifarci agli ultimi avvenimenti, chiedo al senatore Pazzaglini, Covid-19, condizioni in atto, aiuti da parte dello Stato, quindi soldi che probabilmente arriveranno nelle aziende, alcuni gestiti, altri dati affinché ci sia quell'input e quello slancio. Molte cose non richiedono nemmeno molti degli investimenti che saranno dati, saranno dati su buon cuore o sulla bontà delle imprese, abbastanza giusto, ma come diceva Francesco Prudenzano, se si guadagna si guadagna tutti, se si perde si perde tutti. Immaginando che la legge, se fosse già in atto, non crede che avere un parametro in più come quello della valorizzazione del capitale umano, che è il getto di continuità e quindi di quella sicurezza, di quella garanzia che oggi potrebbe essere rappresentata dalle imprese e ripeto una garanzia di continuità in termini proprio di pratici, quindi mantengo le persone, non ci sarà bisogno di ulteriori sforzi perché sono in grado, col mio sapere, col mio know-how, grazie anche all'apporto degli altri, quindi sono state investendo bene questi soldi che oggi mi state dando. Non sarebbe un elemento in più che aiuterebbe anche a garantire e dare serenità a queste cifre che saranno erogate per la ripresa del post-Covid? Sicuramente sì, per motivi oggettivi. Noi in questo momento stiamo parlando di due tipologie di interventi completamente diversi, uno emergenziale per fronteggiare le conseguenze o per limitare le conseguenze della crisi determinata dal Covid-19 e un altro invece strutturale, quello del disegno di legge di cui abbiamo parlato fino ad ora, che consenta alle imprese di determinare in maniera oggettiva il valore del proprio capitale umano ai fini dell'iscrizione a bilancio. Ma come è stato già detto, questo non è un regalo che viene fatto alle imprese, questo è un metodo di valorizzazione degli investimenti delle imprese sul fattore umano. È, come dicevo prima, quasi un percorso ideologico secondo cui il fattore umano non è più un costo ma un valore e per cui non si deve tendere ad ottenere la prestazione al costo minore possibile, ma si deve tendere ad ottenere una prestazione del maggior valore possibile. Sostanzialmente noi con questa iniziativa invertiremmo quello che è attualmente il rapporto datore di lavoro lavoratore, perché a quel punto il datore di lavoro sarebbe ancora più stimolato ad intervenire nella formazione e nel mantenimento del proprio personale e il personale qualificato, preparato, si sentirebbe parte dell'azienda e quindi evidentemente andrebbe a raggiungere lo scopo di cui si diceva prima. E tutto questo non potrebbe che avere effetti positivi anche nella ripartenza post-Covid, perché è evidente che nel momento in cui ci dovesse essere un'esigenza di liquidità o nel momento in cui si dovesse valutare la solidità dell'impresa ai fini del credito, ai fini degli interventi appunto di sostegno dopo le difficoltà di questo periodo, a qualunque fine comunque poter consentire alle aziende, alle imprese di poter iscrivere questo valore bilancio, ne migliorerebbe il rating, ne migliorerebbe l'affidabilità, ne migliorerebbe l'immagine, ne migliorerebbe l'efficienza. Ecco che diventerebbero tutte garanzie ulteriori che giustificherebbero, a mio avviso, ancora di più l'intervento dello Stato, perché è evidente che in un momento di crisi estrema come l'attuale i criteri per poter intervenire non sono molto oggettivi, si deve cercare di sostenere quanti più soggetti possibili senza andare ad analizzare il merito dell'intervento o il merito appunto del soggetto che riceve l'intervento, mentre invece consentire a queste imprese di poter mantenere la propria identità, la propria immagine, la propria organizzazione, la propria struttura, dà un vantaggio a tutto il sistema paese, perché è chiaro che un conto dover sostenere solo tra virgolette un'azienda in difficoltà, un conto dover sostenere anche dei lavoratori che hanno perso il lavoro, quindi se si favoriscono le condizioni affinché il lavoro rimanga, è evidente che poi a cascata ne beneficiano tutti, ne beneficiano le aziende come dicevo prima, perché questo non aumenta il lavoro, ma indirettamente ne beneficiano lo stesso le aziende, perché la possibilità del lavoratore di avere capacità di spesa farebbe sì che il mercato interno darebbe un aiuto immediato alla ripartenza, ne beneficerebbe il sistema paese perché non dovendo aiutare dei soggetti, ma anzi avendo dei soggetti attivi, produttivi, che producono introito per l'erario grazie alle tasse dirette e indirette che una persona che lavora consente di avere, evidentemente favorisce anche l'aumento del PIL, la riduzione del rapporto deficit PIL e la possibilità di ulteriore intervento dello Stato nei confronti di quei soggetti che poi dopo dovessero dimostrarsi più deboli, perché noi adesso dovremmo inevitabilmente sostenere tutti, ma poi una selezione andrebbe fatta, quindi avere un sistema produttivo sano, avere il mondo imprenditoriale che si regge sulle proprie gambe e che anzi contribuisce alla ripartenza, consente anche allo Stato di liberare risorse da destinare alle categorie più deboli. Ecco quindi che si innesca un circolo virtuoso che inevitabilmente, come dicevamo prima, senza praticamente costi per lo Stato porterebbe dei vantaggi a tutte le categorie interessate. Poi successivamente si potrebbe anche fare il passo ulteriore di legare magari ancora di più le sorti dell'azienda a quelle dei propri lavoratori, ma poi quelle sono scelte a mio avviso diverse dalla discussione in cui ci stiamo impegnando adesso, quindi si potrebbe fare come a riflettere una discussione, ma non è attinente al disegno di legge che ho presentato, che invece vuole essere concreto, vuole far sì che in maniera snella, in maniera semplice e aperta a tutti possa consentire alle imprese che vogliono valorizzarsi investendo sulle proprie capacità, competenze e professionalità di farlo avendone anche un ritorno in termini di valore aziendale. Grazie, grazie senatore davvero per questo suo contributo. Io vorrei fare un'ultima battuta prima di salutare i nostri ospiti con il segretario Prudezzano. La domanda è, può essere la valorizzazione del capitale umano che possa aprire a un dialogo totalmente diverso con il mondo imprenditoriale o con il mondo del pubblico tra l'altro? Cioè, detto in parole povere, può essere la valorizzazione del capitale umano quell'elemento che vi aiuta a essere diversamente sindacalistico, siccome sostenete voi? È evidente che noi lo facciamo dall'inizio della nostra iperbole sindacale, questo l'abbiamo sostenuto da sempre ed è noto, lo sai benissimo, però esiste un problema culturale insuperabile, cioè qui abbiamo 70 anni di blocco, noi possiamo dire quello che vogliamo, però esistono degli interessi che vanno oltre e che non si riescono a superare. Noi stiamo qui in campo e parliamo di queste cose e vogliamo smuovere un po' e questo tipo di operazione che stai facendo e che sta facendo anche la politica in questo periodo può essere molto utile, ma è sicuramente soltanto un primo passo, perché io sono convintissimo che una società giusta e migliore come quella di adesso deve superare le contrapposizioni e deve passare alla collaborazione, per cui essere sindacalisti non significa per forza essere opposti come la stessa cosa dall'altra parte, ma questo bisogna farlo superando un blocco del sistema, della rappresentanza che in Italia non si è mai superato, non dico novità se dico che nel privato non c'è mai stata una misurazione del gradimento delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni datoriali, esistono degli schemi dal 48 in poi che continuano a esistere a prescindere i numeri, per cui non c'è una buona volontà per superare questa cosa, non c'è una libertà di scelta da parte di nessuno, di farsi rappresentare né da parte delle imprese né da parte dei lavoratori, c'è una specie di canale obbligato che blocca tutta questa situazione, è un sistema bloccato che deve essere scardinato per il bene di questo Paese, perché altrimenti questa rigidità porterà a una stereosclerosi sociale e a un'economia bloccata, a prescindere quello che si potrà fare con operazioni di imbellettamento superficiale, se non c'è una rivoluzione culturale molto profonda, non credo che supereremo la sfida dei prossimi anni, dei prossimi decenni, la nostra economia non riuscirà a superarla. Anticipo in forma di domanda una provocazione, mi rivolgo al senatore Pazzaglini, ma credo di non dire niente di nuovo. Facciamo un esempio, collegandoci al discorso dei prestiti, delle garanzie e via dicendo, se io devo essere valutato da un potenziale grosso committente, cioè un grosso cliente, un potenziale cliente che viene da me, gli piace il mio prodotto, questo racconto un fatto che mi è accaduto personalmente, quindi un'impresa storica di oltre 35 anni, qui delle marche, che produce un buon prodotto, ha suscitato l'interesse di una cordata di imprenditori cinesi, i quali sono venuti in Italia, hanno visto l'installazione, hanno visto la fabbrica, hanno visto le maestranze, sono rimaste soddisfatte e gli hanno prospettato come dire il tipo di business, il tipo di contratto e gli hanno detto questo. Caro signore, il suo prodotto ci piace, noi stiamo investendo in un grosso progetto, siccome la Cina ovviamente è tutto più grande, per andare a portare il suo prodotto in n centinaia di installazioni e quindi abbiamo un piano di progetto per i prossimi vent'anni. Caro signore, il quale questo signore è il classico fondatore dell'impresa che è iniziato nel dopoguerra con il ripostiglio e poi si è allargato fino ad avere 150 dipendenti e che oggi ha una certa età e che nel frattempo ha piazzato in fabbrica la moglie, la figlia, il figlio, il genero e via dicendo, questo cinese capodelegazione gli fa questa domanda a bruciapelo, dice caro signore, ma nei prossimi vent'anni chi è che gestisce l'azienda e chi è che ci dà la sufficiente garanzia di manutenzione, di ammodernamento, di innovazione, di assistenza, di formazione dei tecnici in Cina e via dicendo? Questo signore è rimasto basito e me lo ha raccontato scioccato, scioccato dicendomi nessuno mi ha mai posto questa domanda e io non ho saputo che cosa rispondere. Cioè la domanda al di là della qualità del prodotto che ormai diamo per scontato, al di là dei tempi di consegna, della logistica, ormai cose trite e ritrite, però la domanda puntuale sta a fronte di un grande contatto, è stato ma tu che competenza, con quali persone, visto che hai fatto tutto tu, hai passato due ore a decantare quanto sei stato bravo, mi racconti tu tra vent'anni che ovviamente, mi dispiace per te, non ci sarai più, spero perché te ne andrai in vacanza ai Carabbi, ma chi è che porta avanti l'azienda, ma chi non nome e cognome, non gli importava nulla di sentire un nome e cognome, ma con quali competenze sarai in piedi? E quindi mi collego alla domanda, ma è una domanda retorica, il problema della piccola media impresa italiana è questa, non c'è turnazione, non c'è svecchiamento, non c'è passaggio generazionale adeguato, non c'è un passaggio alle persone che vogliono prendere in carico l'azienda. E quindi lei cosa pensa di questo? Quando prima parlavo di diversi vantaggi per l'azienda, pensavo anche a questo, noi abbiamo evidenziato quello diretto in termini di maggior valore, quello indiretto in termini di rating nell'eventualità che l'impresa, l'azienda chieda dei prestiti ad una banca che quindi possa essere giudicata in maniera migliore, essere considerata più solide ed ottenere quindi delle condizioni più vantaggiose. Ma questo è un altro vantaggio importantissimo, si diceva imprenditore marchigiano ma poteva benissimo essere sostituito dalla stragrande maggioranza degli imprenditori italiani, perché noi sappiamo che la successione delle nostre piccole e medie aziende è un problema enorme, moltissime non riescono a superare appunto il passaggio generazionale, ci sono dei dati statistici che adesso non riporto, però sappiamo bene che addirittura al primo passaggio moltissime si trovano in difficoltà e molte altre al secondo passaggio generazionale. Quindi avere una struttura, avere un'organizzazione, avere un know-how aziendale costituito dalle persone consente a questa azienda di poter andare avanti. Io avrei anche un episodio personale da raccontare, un carissimo amico, un imprenditore è venuto meno ancora in età giovane, ha lasciato l'azienda al figlio come è naturale che sia e il figlio è riuscito a rilevarla e continuare ed andare comunque bene appunto perché ha avuto l'intelligenza di capire che doveva puntare sul proprio personale per farsi anche sostenere grazie alla loro esperienza, le loro capacità, le loro professionalità nella fase iniziale di questa successione che purtroppo non è stata fisiologica ma patologica e l'azienda è sopravvissuta. Quindi avere queste competenze che rimangono nell'azienda perché opportunamente valorizzate nelle modalità di cui dicevo prima, non dico che consentirebbe di superare questo problema, però consentirebbe non solo di rispondere a quegli imprenditori cinesi ma farebbe anche in modo che moltissime aziende che noi perdiamo appunto perché non c'è questa programmazione, questa visione del futuro che invece in questo momento diventa indispensabile, potrebbe essere superato appunto dalla consistenza stessa dell'azienda. Quindi seppur non fatto per queste motivazioni il conseguimento di questo risultato permetterebbe di ottenere questo ulteriore elemento positivo che si unisce a diversi altri ma come dicevo prima il tempo è tiranno e quindi non siamo stati esaustivi nel descrivere i vantaggi di questa possibilità però evidentemente questo potrebbe diventare uno dei più importanti. Bene, bene, grazie. Ci avete davvero dato una grossissima mano nel far intendere a chi ci ascolta qual è il vero valore del capitale umano. Noi abbiamo utilizzato l'aggettivo dirompente perché effettivamente crediamo che sia tale, sia tale da sconvolgere completamente non solo il mondo del lavoro in in termini di rapporto, in termini di prospettive future dal lato dei lavoratori, ma sia di sostanziale fondamentale importanza per il cambio di passo che in economia c'è stato e che comunque già dalla parte estera viene, lo viviamo in maniera indiretta e verso il quale ci dobbiamo totalmente allineare. Il capitale umano rappresenta l'unica secondo noi davvero fonte di diversità ma l'unica davvero fonte di ricchezza che possiamo alimentare grazie al nostro essere italiani, grazie alle nostre caratteristiche. In questa sfilza di grazie vi rivolgo ancora un grazie caloroso per il vostro contributo e come abbiamo fatto per chi vi ha preceduto nelle altre trasmissioni facciamo l'augurio di incontrarci fisicamente quanto prima perché incontrarci virtualmente, virtualmente, tecnologicamente non dispiace pur sempre un contatto ma il fatto della gioia di poterci stringere la mano credo che quella sia una cosa che va ben oltre il semplice dialogo e che manifesta anche quello la gioia di poterci incontrare e affrontare gli argomenti. Anche per il significato implicito che avrebbe, cioè che saremmo fuori dalla crisi. Grazie davvero di nuovo e a risentirci e a rivederci quanto quanto prima. Alberto, io credo che la puntata di oggi sia stata di particolare interesse non solo per il forte contributo che abbiamo avuto dai nostri ospiti che voglio sempre sottolineare sono stati ospiti tra le parcolari, ci hanno accompagnato in maniera tangibile in questa visione che entrambi abbiamo avuto circa la valorizzazione del capitale umano ed è giusto a questo punto fare le riflessioni di rito. Forse siamo riusciti a dare una sensazione di che cosa si intende per capitale umano perché entrambi sappiamo benissimo quanto di questa parola ci sia stato un uso strettamente personale, forse non si è mai stati così esaustivi appieno di quello che il capitale umano rappresenta, molti l'hanno confuso con la formazione, molti lo hanno confuso con altri elementi che sono dei componenti aggiuntivi, ma il capitale umano ha, e cioè che quello che in maniera più ampia viene definito come capitale intellettuale che troviamo all'interno di ogni sistema economico sia pubblico che privato e che rappresenta l'unione di due elementi importanti che sono il know how e quindi la conoscenza e abbiamo quindi in termini 4.0 e che si porta indietro e che fa progredire nel tempo, quindi c'è dalla nascita e progredisce nel tempo, insieme al know how e quindi quelle competenze che l'uomo, che è quindi il collaboratore, porta all'interno della sua azienda e le offre per l'impresa per la quale lavora. La combinazione dei due che è fonte di crescita, il sapere dell'uno e il sapere dell'altro, crea quel valore, quel vantaggio competitivo che è unico, che non è replicabile perché è fatto dalla persona e dal know how aziendale. Questo valore che necessariamente deve essere alimentato e quindi ci vuole la giusta formazione, ci vogliono tanti altri elementi che aiutano a crescere, l'azienda e l'uomo, non può non essere quantificato, l'imprenditore non può vedere realizzati questi sforzi e non può non metterli a bilancio, quindi oggi se questo elemento è fonte di competitività è giusto anche farlo emergere. Bisogna superare qualche cosa di molto farraginoso come dicevo all'inizio, ma noi siamo stati in grado di farlo e quindi speriamo che con l'aiuto, e ne abbiamo avuto un esempio pratico, quello del senatore Pazzellini che in data, ripeto, gennaio 2019 ha presentato l'iter per questa proposta di legge che riesce a facilitare questa tecnica che noi abbiamo applicato già per qualche azienda. Aggiungo, provo a fare la stessa considerazione da un altro punto di vista, giusto per dare qualche spunto ulteriore. Noi spesso diciamo che uno dei difetti del tessuto imprenditoriale italiano, soprattutto delle piccole, è che le società sono sottopatrimonializzate, hanno poco patrimonio, e questo per un'abitudine inveterata di drenare ogni volta tutti gli utili e quindi non accantonare, non mettere riserve di rischio, e quindi appena ci fermiamo, vediamo, siamo tutti in crisi di liquidità, lo vediamo in questo sito. Però al di là di questo, perché è un problema essere sottopatrimonializzato? Perché stiamo dicendo che quell'azienda non ha sostanzialmente un serbatoio, una capienza di benzina, diciamo così, per andare avanti. E quindi si deve, come dire, per forza di cose rifarsi ogni volta, diciamo, dal suo core business, dagli incassi, dalle vendite, dal fatturato e via dicendo. Il patrimonio, adesso che sia di tipo finanziario, che sia, come l'abbiamo detto noi, basato sulle competenze, sta a significare che quell'azienda ha benzina, appunto, ha autonomia per poter operare nel tempo. Ovviamente non basta questo, ci vuole anche una buona gestione, però è uno degli elementi fondamentali. Facciamo un esempio di provocazione. Se io, adesso che dobbiamo, come dire, indebitarci, farci garantire dallo Stato e via dicendo, ma in generale, in generale vale sempre nella vita di un'azienda, se io devo dare una sorta di affidabilità che ti possa restituire il prestito, o come dicevamo prima nel caso del cinese, e io devo darti confidenza di rimanere sul mercato per 10-20 anni, quali sono gli elementi che ti possono convincere? Ti dirò che ho due capannoni? No. Ti dirò che ho i macchinari, ma i macchinari fra 10 anni saranno tutti da cambiare. Ti dirò che ho un buon portafoglio prodotti, tra 10 anni saranno obsoleti, quindi avrò necessità di rinnovarlo. Ti dirò che oggi ho un buon portafoglio ordini, perché ho dei buoni clienti, ma non è detto che questi clienti tu li mantenga anche per i prossimi 10 anni. Quindi, alla fine, tutto sommato, la cosa più quasi immateriale che è rappresentata dalla persona, ovvero dalle competenze che porta questa persona, sono la vera chiave di lettura su quello che è un piano di resilienza, di continuità dell'impresa. Perché la domanda è che tu tra 10 anni sarai in piedi, l'unica risposta che si potrà dare, non io mi impegno per i prossimi 10 anni a fatturare sempre di più con un buon margine di guadagno, perché abbiamo visto che ci sono tanti incidenti che possono accadere, ma l'unica risposta è che io sarò in piedi perché ho con me 50, 100 ricercatori, ingegneri, tecnici, specializzati, commerciali, ho tutte le competenze e quindi io ho a disposizione tutta la materia cerebrale necessaria per reinventarmi, per cercare nuovi prodotti, nuovi clienti, nuove linee, nuove sistemazioni, nuove situazioni, nuovi modelli organizzativi. Quindi, se vogliamo, è l'asset più strategico che c'è all'interno dell'azienda, la competenza umana, al di là di tutto il resto che come sappiamo è soggetto a obsolescenza, mentre la conoscenza cresce nel tempo e, parola infelice in questo momento, contagiosa, perché comunque io la posso passare anche agli altri, posso formare le persone e via dicendo, sempre che l'azienda predisponga le dovute infrastrutture per poterlo fare. E questo aspetto di continuità, tra parentesi, è quello che appare nei famosi rating. Quando io dico AAA, AAA, BBB, eccetera, io sto dicendo che non solo oggi sono in grado di sostenere il debito, ma anche nel futuro. Il rating sostanzialmente mi serve a quello, mi dice quando sono bravo, quando sono stato bravo nell'ultimo bilancio, mi dice quanto probabilmente sarò in grado di mantenere l'impegno preso. E quindi in base a che cosa valuterò questa bravura? Bene, quindi la possibilità di poter patrimonializzare questo valore enorme che sono le competenze, senza tralasciare quella che è la conoscenza che l'azienda ha maturato nel tempo, si porta dietro, perché questo è un aspetto fondamentale, costituisce quindi quel valore aggiunto che può essere messo a patrimonio. Oggi lo si può fare in maniera molto articolata, ripeto, noi lo abbiamo fatto, è farraginoso, ma crea maggior patrimonio all'azienda, crea maggior credibilità. Ci auguriamo che questa procedura si possa snellire quanto prima, noi ne abbiamo tra virgolette tracciato le caratteristiche, quali sono i vantaggi, ci abbiamo messo tra virgolette anche la faccia e lo abbiamo scritto con una nostra pubblicazione. Abbiamo coinvolto in questo progetto le istituzioni come avete potuto sentire, ma anche tutti i vari stakeholders, le associazioni sindacali, quelle datoriali, per accelerare questo processo e far sì che diventi anche cultura. Oggi con la trasmissione sulla valorizzazione del capitale umano chiudiamo un ciclo, il primo ciclo di economia prima e dopo. E pregherei Alberto, nella circostanza, di fare un po' il riassunto delle caratteristiche delle puntate che abbiamo sostenuto in questi giorni particolari. Sì, se ci mandano la tabella che abbiamo proiettato l'altro ieri, molto semplice, la gruppa rappresenta un po' la visione che noi abbiamo di impresa moderna, più che moderna, l'impresa che vuole sopravvivere, la chiamerei così. Abbiamo detto un'impresa disegnata da confini tratteggiati e non continui per indicare che c'è un dialogo, un osmosi, ma soprattutto un condizionamento reciproco tra l'interno dell'impresa e il territorio nel quale l'impresa insiste. E poi la cosa fondamentale che è rappresentata, diciamo, da questa freccia, da sinistra verso destra, la più lunga, è avere la capacità e la volontà non solo di aderire a dei principi etici che vanno scelti, non sono solo quelli per educazione che diamo per scontato, ma vanno pesati, vanno comunicati, vanno anche controllati, controllati, esistono tecniche, diciamo così, di coerenza etica, ma la cosa fondamentale è darsi e scegliersi una strategia in base, per esempio, ad analisi di scenario che devo poter compiere, in base agli obiettivi che mi sono dato fare pianificazione, abbiamo ricordato l'altro giorno che il 94% delle aziende non dispone di uno strumento di pianificazione, ma per strumento intendiamo una tabella foglia elettronico banale, non c'è neanche quello. Ovviamente quando ho definito gli obiettivi posso parlare di rischi e quindi gestione dei rischi, cercare di capire quali possono essere le conseguenze e quindi pensare prima quali sono le contromisure che posso attuare per farmi meno male, l'abbiamo visto con l'esperienza del virus, fabbriche anche grandi, importanti, si sono dovute fermare perché con la moda che c'è gli ultimi 20 anni del just in time e quindi non avere il magazzino a casa propria ma di fare magazzino a casa del fornitore, se quel fornitore si è trovato in un'area rossa e quindi ha dovuto chiudere, ha fatto chiudere anche tutta una serie di fabbriche che erano loro clienti, per esempio, per esempio, ma tra i rischi ce ne possono essere di N tipi. Sul capitale umano, se mi rimettete la tabella per chi ci guarda, sul capitale umano ne abbiamo discusso oggi, ovviamente va innestato su una politica di benessere del lavoratore, chiamasi welfare, ma non lo abbiamo chiamato welfare per non inquinare il concetto con il discorso degli sgravi fiscali che alcuni conoscono, ma la cosa importante è mantenere un'attività di innovazione che significa ricerca e sviluppo, ma non significa il laboratorio super segreto, innovazione, si intende innovazione di processo, innovazione di sistema, innovazione anche delle competenze interne e innovazione di mercato e nonché di prodotto. Tutto quello che io faccio lo rendo disponibile alle parti interessate attraverso uno strumento che è il report integrato, ma che rappresenta la fotografia di come io intendo l'impresa, quindi non è un bilancio fino a se stesso, mettiamo dentro ovviamente anche l'ausilio delle competenze esterne, perché le competenze esterne? Perché è la contaminazione che mi arricchisce, non posso pensare di capire il mondo sempre e solo da solo, ognuno di noi ha bisogno anche dell'apporto dell'altro, quindi la differenza che arricchisce e quindi soprattutto le esperienze che possono essere portate da altre persone, qui dentro ci mettete tutti i professionisti che volete, ma anche le associazioni datoriali, sindacali, cioè qualunque fonte di una novità o di una competenza o di un utilizzo che può essere importante. Gli altri non li trattiamo, ma sono ugualmente importanti. Ecco, questo è un po' il quadro di questi schemi, di questi argomenti, abbiamo trattato le nostre puntate quattro, mi pare, e quindi questa è la situazione, Giuseppe. Perfetto, allora, Economia prima e dopo, quindi come dicevo, chiude qui questo suo primo ciclo, ci rivedremo subito dopo la festività pasquale, dove Economia prima e dopo tornerà in una nuova veste con delle novità, i nostri appuntamenti saranno tre nell'arco della settimana, caratterizzati da una puntata monotematica e da altre due puntate che invece tratteranno gli argomenti più importanti del momento dove ci sarà una riflessione che porteremo avanti con Alberto per 20 minuti. Avremo sempre l'apporto di ospiti esterni che ci aiuteranno nelle nostre riflessioni e quindi parleremo sempre di impresa all'interno di un sistema economico molto particolare quale quello italiano e anche il mondo economico estero. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie ad Alberto per la sua collaborazione sempre preziosa in questa puntata e arrivederci prossimamente. E auguri di un buon triduo pasquale a tutti gli spettatori. di un buon di un buon di un buon di un buon